Il sostantivo che più mi piace in questo periodo è speranza, nel senso che io trovo tanta gente che dice sono tornato a credere in qualcosa, quindi vi chiedo solo di alimentare in questi nove giorni la speranza e quindi di scorrere la rubrica telefonica che avete sul telefonino, di chiamare quei cinque che sicuramente conoscete, che ma io la politica in televisione non la guardo, ma che tanto poi parlano e non succede niente, ma che tanto qua vincerà sempre la sinistra, ma che tanto non cambia niente alzi la mano chi non ce li ha in famiglia, in azienda e quindi lo sforzo qua siamo in 30, 30 per 5 fa 150 se riuscite a recuperare tramite mail o tramite la rubrica telefonica 5 persone a testa, uno dice ma non sono quei 5 che, se 10.000 persone ne recuperano 5 hanno paura perché non ci sarebbe tutto questo casino tutta questa polizia, tutte queste minacce, e quindi se hanno paura loro vuol dire che il rosso un pochino si stinge.